Aggiungo che, visto che la situazione, nonostante la criticità e la crisi economica che stiamo attraversando, la situazione nostra dal punto di vista dei segnali economici è molto positiva. La situazione nostra dal punto di vista dei segnali economici è molto positiva. La situazione nostra dal punto di vista dei segnali economici è molto positiva. Grazie. 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 Grazie.